La gente che dice che io sia, che pensa del figlio del uomo, tu sei il battista, ma io credo che, sei il rivoluzionario, tu sei il Messia, sei il rivoluzionario, ma Cristo è un amico che non condanna mai, non tradisce mai, ma Cristo è la speranza per noi, è la forza che, è la forza che, ci accompagnerà, ci accompagnerà. Io sono una estrada e la vita, c'è la verità, c'è la storia, c'è la felicità, ma io credo che, non hai cambiato il futuro, che tu hai vinto il mondo, come prima, ma Cristo è un amico che non condanna mai, non condanna mai, non tradisce mai, non tradisce mai, ma Cristo è la speranza per noi, è la forza che, è la forza che, ci accompagnerà, ci accompagnerà. Nessuno di voi mi domanda, come vai signore, la tua scelta è fatta in sui cuori, non ci lasci i soli, tu non ho detto che, ma io credo che, tu non ritornerai, e tu non sarai, a cambiare il futuro, ma Cristo è un amico che non condanna mai, non condanna mai, non tradisce mai, non tradisce mai, ma Cristo è la speranza per noi, è la forza che, è la forza che, ci accompagnerà, ci accompagnerà.